Quando sento i giudizi morali, tipo la solidarietà, ecco, non pigliamoci in giro. Anche qui un bel servizio detto prima, ci ha detto che questi soldi servono a restituire i prestiti dell'ABCE. Non sono i soldi che noi stiamo dando ai greci, siamo soldi che stiamo dando ad altri creditori che non siamo noi. Perché qui se no pare che noi neghiamo il pane al povero greco. Noi dobbiamo dargli dei soldi nostri per restituire soldi a BCE, Fondo Monetario Internazionale. Quindi veniamo giù dal pero.